Né vincitori né vinti, il derby del Vomano come all'andata termina in parità, questa volta a rimontare il Castelnuovo che pareggia su calcio di rigore. E' il derby degli indisponibili, entrambi gli allenatori devono rinunciare ad elementi di assoluto spessore, Di Fabio non recupera Emilia e Orlando, mentre Epifani deve rinunciare a Maio ed Esposito. A distanza di due anni il comunale, dopo i lavori di ammodernamento, torna a riaprire le proprie porte ed ospitare pubblico. Con punti importanti in palio, le due formazioni danno vita subito a una gara godibile. Il notaresco prova a riversarsi dai primi minuti in avanti, ma a sbloccare il derby e il Castelnuovo. Il vantaggio nasce dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto profondo da Sparvoli. La sfera non viene allontanata dalla difesa, così il più lesso a girare verso la porta è Colì, che batte Shiba sotto misura, quinto centro in stagione per lui, il secondo consecutivo. Il notaresco, che si era fatto vivo dalle parti di Natale nei primi secondi di gara, ha subito il gol in piega qualche minuto a riordinarsi, ma con Diarrà trova il gol del pari, il numero 5 si mette in proprio e con una conclusione dai 25 metri supera Natale. Non esente da colpe il numero 1 di casa nella circostanza, mentre per il centrocampista Maliano è il primo gol in campionato. Rimesse le cose a posto, il notaresco torna ad impossessarsi del pallino del gioco, ma commette l'errore di lasciare quella che è la specialità della casa ai neroverdi, ovvero le ripartenze. Sparvoli sulla sinistra fornisce a cento aria un pallone che va solo spinto in rete, ma Prestiani e Colì si ostacolano e la difesa ospite ringrazia. Con il risultato giusto di 1 a 1 va in archivio il primo tempo. Così come nella prima frazione e nel secondo tempo da notare è ancora il minuto 10, a sorridere è ancora il notaresco. Schema da punizione di apparente facile lettura, ma il Castelnuovo si fa sorprendere e lascia libero Gallo, che prende la mira e di testa sorprende Natale sul pallo lontano. Anche per lui prima rete stagionale. La risposta neroverde è immediata con Prestiani. Il centrocampista si inserisce bene in aria e lascia partire il destro su cui Schiba risponde mettendo in corner. La fase centrale della ripresa non vive di grandi emozioni, partita che si rianima improvvisamente però al 33esimo. Sparvoli entra a contatto in aria con Massarotti e per finzi di foligno calcio di rigore tra le vibranti proteste del notaresco. Esecuzione affidata a De Gidio che si fa ipnotizzare da Schiba. La sfera resta lì, si accende una mischia e la palla in qualche modo poi supera la linea grazie al tocco di De Gidio che fa 10 in campionato. Le due squadre si accontentano e nei minuti finali non si punzecchiano. Al triplice fischio finale applausi per entrambe che in qualche modo continuano la loro striscia positiva in campionato e verso i rispettivi obiettivi finali. Un pareggio giustissimo, un partita da derby, proprio classica. Siamo riusciti ad andare in vantaggio noi, abbiamo sofferto dopo il vantaggio perché il notaresco voleva a tutti i costi riportare la partita in parità. Ci è riuscito con un gran tiro da fuori. Poi dopo siamo riusciti noi, secondo tempo equilibrato, un gol sul calcio piazzato. Alla fine ci abbiamo creduto, abbiamo voluto questo pareggio, l'abbiamo ottenuto. Peccato perché abbiamo avuto anche l'occasione per fare il 3-2. Un grosso applauso ai miei ragazzi perché non stanno mollando un centimetro e stanno facendo davvero delle cose egregie. Noi ogni partita stiamo affrontando avversari di un certo calibro e sinceramente non demeritiamo. Noi dobbiamo continuare a fare le nostre cose con umiltà, come stiamo facendo. Lottando su ogni pallone, come stiamo facendo. Alla fine abbiamo anche noi qualche giocatore di qualità che ti può sicuramente trovare la giocata per vincere la partita. È normale che più ne abbiamo e meglio è perché se avessimo avuto anche Emili oggi forse qualche problemino in più e l'avremmo creato a loro. Ma c'è grande rammarico oggi perché credo che abbia fatto una grande gara ma deve essere amplificata questa grande gara perché come ci siamo arrivati a questa partita? Con 4-5 indisponibili e con qualcuno che ha giocato con un po' di febbre, con l'allenatore e con la febbre. Credo che quest'anno è un anno veramente molto particolare. Ogni volta che alziamo un po' la testa ci succede sempre qualcosa. Però sono contento perché la squadra ha fatto una grande gara. Sono orgoglioso oggi di loro perché nonostante tutto siamo venuti qua contro una squadra che in questo momento secondo me è la squadra che sta meglio di tutti. Lo dicono i risultati, lo dicono la qualità del gioco che hanno. Abbiamo fatto veramente una grande partita. Abbiamo giocato, abbiamo difeso bene, ne siamo ripartiti ogni volta. Il rammarico è che questo purtroppo ci ha portato all'inizio dell'anno e che gli ultimi 20 metri dobbiamo migliorare perché la squadra che arriva tante volte in quel modo e in quella maniera deve fare il 3-1 e la partita finisce. Quindi andiamo via con il rammarico di questo. Ripeto, al cospetto di una grande gara giocata tra noi contro una squadra che in questo momento veniva da tantissimi risultati buoni e quindi ha ancora più valore. Quindi sono contento, ripeto, fatti complimenti a tutti e sono orgoglioso ancora di più oggi di allenarli perché so da dove veniamo. Quando mi espongo a dire qualcosa credo che lo dico perché le alleno tutti i giorni, so come i ragazzi sono e sono contento perché poi quando hai questi tipi di risposte per quanto riguarda le prestazioni sono cose importanti. Ripeto, di questo sono contento. Oggi veniamo via con tanto rammarico però consci di aver fatto una partita veramente importante.